Il Consiglio Comunale approva il piano triennale delle opere pubbliche. Con 16 voti favorevoli, 4 contrari e 2 estensioni, il Consiglio Comunale ha approvato ieri sera il piano triennale delle opere pubbliche, uno degli atti propedeutici alla bilancia pluriannale di previsione 2024-2026 che andrà in discussione lunedì prossimo. Lo strumento per il quale sempre a maggioranza è stata votata anche l'immediata esecutività ha concluso il suo iter dopo essere stato modificato dall'Assise con l'approvazione di poco più di 20 emendamenti a fronte di quasi 200 interventi proposti dall'amministrazione. Questi cambiamenti decise nell'ultimo scorso di seduta. Inserito con un emendamento a firma Garra e Melfi, l'intervento per la riqualificazione dell'impiantistica e la messa in sicurezza del palazzetto dello sport Concetto Lobello per un importo di poco più di 300 mila euro finanziato con fondi regionali. Altro emendamento sempre a firma Garra e Melfi per la riqualificazione della piscina piccola della città dello sport con la previsione indicata da Simonelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spogliatoi e servizi igienici e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spogliatoi e dei servizi igienici della piscina olimpionica Paolo Caldarella per un importo di 1 milione e 500 mila euro da finanziare attraverso il credito sportivo. Altra modifica approvata è quella a firma Bonafede per lavori di sistemazione della via Porterone quantizzati in poco più di 176 mila euro. I lavori restano subordinati al finanziamento esterno. Sempre è primo firmatario Bonafede approvato l'intervento di razionalizzazione e ottimizzazione dell'incrocio di Piazzale Carmelo Ganci per assicurare maggiore sicurezza all'attrazzamento pedonale, prevista una spesa di 500 mila euro da fondi esterni. Primo firmatario Luigi Cavarra approvato l'emendamento che prevede la riqualificazione di piazza Leonardo da Vinci al fine di dare un maggiore decoro architettonico e assicurare una maggiore sicurezza, spesa prevista di 600 mila euro con fondi esterni. Primo firmatario Leandro Marino approvata l'illuminazione pubblica sul tratto nord di via Luigi Monti intervento stimato in 200 mila euro con risorse comunali, regionali o statali. Con altri due emendamenti sempre di Marino il Consiglio ha inserito nel piano la manutenzione straordinaria di alcune strade del villaggio Miano, si tratta delle vie Monte Cammarate e Monte Sparaglio, di via Monviso e via Antelao. Ciascuna di queste opere ha un importo di 151 mila euro da reperire tra gli stanziamenti nazionali, regionali o comunali ed è stato previsto per il 2025. Dedicato ai lavori stradali anche l'ultimo emendamento è lesternato in aula da Francesco Vaccaro, con il quale si prevede una spesa di 400 mila euro con fondi non comunali per la manutenzione delle vie Aldo Caratore e Mascaloscia. Concluso l'esame delle proposte di modifica, il Presidente Alessandro Di Mauro ha messo ai voti la proposta emendata. Grazie a tutti.